vediamo che si stanno disponendo verso il centro del campo di gioco le due formazioni io vi do il mio buongiorno siamo nel campo il campo di ciampino della citizen academy la mette in mezzo rambocross attenzione ancora non è finita e questa sì che è la prima occasione della partita caruana riesce a recuperarla in area di rigore la mette dietro il primo controllo di desantis la mette dietro caruana occasionissima direttamente lui e ci riesce a servire un ottimo pallone controllo e tiro finisce al lato e spiazza d'alessandro rigore anche dall'altra parte rigore anche dall'altra parte e spiazza d'alessandro e spiazza d'alessandro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti